Seneca. Libro secondo. Lettera 18. È dicembre. Ora più che mai c'è fervore in città. Si è data ufficialmente via libera alla sfrenatezza. Tutto risuona di grandiosi preparativi come se ci fosse differenza tra i saturnali e i giorni di lavoro. Invece non ce n'è proprio nessuna. Tanto che secondo me ha ragione chi ha detto che una volta dicembre durava un mese e ora invece è dicembre tutto l'anno. Se ti avessi qui, discuterei volentieri con te sulla condotta da seguire. Vanno mantenute le nostre abitudini quotidiani oppure, per non sembrare in contrasto con gli altri, dobbiamo pranzare più allegramente e toglierci la toga. Mentre una volta questo accadeva solo nei momenti difficili e quando la città era in pericolo, ora cambiamo veste per festeggiare e darci ai piaceri. Se ben completamente diversi, salvo che proprio questi giorni in cui la massa si abbandona ai piaceri, dobbiamo costringere il nostro animo ad astenersene, anche se è il solo. Una prova certissima della propria termenza può averla se non si accosta agli allettamenti che portano alla dissoluzione, né vi si lascia trascinare. Essere perfettamente sobri e temperanti, mentre tutti gli altri si ubriacano e vomitano, è indice di una maggiore forza morale. Ma è segno di una maggiore moderazione non allontanarsi da tutti, non cercare di distinguersi dagli altri e nemmeno mescolarsi alla massa, fare le stesse cose ma in modo diverso. È possibile festeggiare senza sfrenarsi. Voglio, d'altra parte, mettere alla prova la tua fermezza d'animo. Ti invito a comportarti come insegnano i grandi uomini. Per qualche giorno nutriti di cibi pessimi e scarsi, vesti abiti ruvidi e rozzi e poi chiediti, è questo ciò che temo? Anche nei momenti di tranquillità l'animo si prepari ai tempi difficili e quando va tutto bene si rafforzi contro i colpi della sorte. Il soldato fa le esercitazioni in tempo di pace, costruisce trincee quando non ci sono nemici e si sottopone a fatiche inutili per essere in grado di sostenere quelle necessarie. Se non vuoi che uno sia in preda al terrore al momento della prova, fallo esercitare prima. Hanno seguito questo metodo quegli uomini che per un po' ogni mese vissero da poveri, quasi fino all'indigenza, così da non temere mai quello stato che avevano conosciuto frequentemente. Non devi ora pensare che io parli delle cene di timone o delle camerette da povero e di tutto quello che i ricchi annoiati dal lusso fanno per passatempo. Devi avere veramente un pagliericcio, un saio e pane nero e secco. Vivi in questo stato per tre o quattro giorni, talvolta anche di più, perché non sia un gioco ma una prova. Allora, credimi, sarai contento di esserti saziato con poca spesa e capirai che per la serenità non serve che la fortuna sia propizia. anche se è contraria, ti darà quanto basta alle necessità della vita. Non c'è motivo, però, che ti sembri di fare grandi cose. Farai lo stesso che migliaia di schiavi e migliaia di poveri. Puoi compiacerti solo perché lo farai senza essermi costretto, perché sopportare la povertà per sempre sarà per te facile quando sperimentarla di tanto in tanto. Esercitiamoci al palo e perché la sorte non ci sorprende impreparati, familiarizziamo con la povertà. Viveremo più tranquilli nella ricchezza se sapremo che non è gravoso essere poveri. Epicuro, famoso maestro di piaceri, aveva stabilito dei giorni in cui si cibava frugalmente per vedere se veniva a mancare qualcosa al pieno e perfetto piacere. Quanto grande era il senso della mancanza e se il divario meritava di essere colmato a prezzo di grande fatica. Nelle lettere che gli scrissi a Polieno dice proprio questo e si vanta di spendere meno di un'asse per sfamarsi, mentre Metrodoro, che non aveva fatto gli stessi progressi, ne spendeva uno intero. Pensi che ci si possa saziare con questo tipo di vitto? Sì, certamente, e si può anche provare piacere, non quel piacere superficiale e fuggevole che deve essere ripetutamente stimolato, ma un piacere costante e sicuro. L'acqua, la polenta o un pezzo di pane d'orzo non sono saporiti. Da però un grandissimo godimento poter trarre piacere anche solo da questi cibi ed essere arrivati a tal punto che nessuna avversità della sorte non può toglierci più nulla. In carcere il vitto è più abbondante. Il carnefico, non si dà così poco cibo ai condannati alla pena capitale. Sottoporsi volontariamente a disagi che neppure chi è condannato a morte deve temere è segno di una straordinaria grandezza d'animo. Questo significa prevenire i colpi della sorte. Comunque comincia, mio caro, a seguire le abitudini di costoro e stabilisci dei giorni in cui abbandonare le tue cose e prendere familiarità col poco. Comincia ad avere rapporti con la povertà. Abbi la forza di disprezzare le ricchezze e renditi anche tu degno di Dio. Nessun altro è degno di Dio quanto colui che disprezza le ricchezze. Non ti proibisco di possederle, ma voglio che tu le possieda senza timori. E questo risultato lo conseguirai in un sol modo se sarai convinto di poter vivere felice anche senza se le guarderai sempre come se dovessi perderle. Ma è tempo ormai di chiudere la lettera. Prima mi dici paga il tuo debito, ti farò pagare da Epicuro. L'ira sfrenata genera pazzia. Quanto ciò sia vero lo sai necessariamente perché hai avuto servi e nemici. Questo sentimento può divampare contro qualsiasi persona. Nasce tanto dall'amore quanto dall'odio. Sia nei momenti critici che tra giochi e scherzi, e non importa la gravità delle cause, ma l'animo in cui si manifesta. Allo stesso modo del fuoco non importa la sua violenza, ma il materiale su cui si sviluppa. I corpi più compatti non lo alimentano, anche se è violentissimo, mentre quelli aridi e facilmente infiammabili mantengono viva anche una scintilla, fino a trasformarla in incendio. È così, Lucilio mio. Dall'ira violenta nasce la follia. Perciò l'ira va evitata, non solo in nome della moderazione, ma anche per mantenersi sani. Stami bene. Lucio, Anneo, Seneca.